Fratelli e sorelle bianconere, notizietta fresca fresca, proprio di questi istanti. La finale che si disputerà tra Juventus e Atalanta di Coppa Italia, ovviamente al MAPEI Stadium, avrà il pubblico. Finalmente è stata presa una decisione, stranamente ragazzi, stranamente le decisioni che vengono prese prima e non dopo, questa volta qui. Quindi ci sarà il pubblico tra Juventus e Atalanta, però attenzione ragazzi, soltanto il 20%, quindi il MAPEI Stadium, se non vado errato, vado a memoria, dovrebbe essere di all'incirca 23.317 posti, il 20% di questa somma, all'incirca ragazzi dovrebbero esserci sui 4.600, 4.600 e passa persone allo stadio. E' già un buon punto di partenza ragazzi. Detto questo, vi volevo comunicare questa notizia fresca fresca proprio, di minuti fa, proprio di pochi minuti fa. E niente, io vi saluto e sempre Forza Iwe.